Costruire un pannello fotovoltaico richiede competenze avanzate in ingegneria elettrica, conoscenze approfondite sulla tecnologia dei pannelli solari e materiali specializzati, nonché attrezzature specifiche. Inoltre, la costruzione di un pannello fotovoltaico faidate può essere pericolosa e potenzialmente dannosa se non eseguita correttamente. Tuttavia, se vuoi sperimentare e capire il funzionamento di base di un pannello solare, potresti iniziare con un progetto educativo o un kit disponibile sul mercato. Tali kit solitamente includono istruzioni dettagliate e tutti i componenti necessari per assemblare un piccolo pannello solare. Se desideri comunque procedere con la costruzione di un pannello fotovoltaico, ecco una panoramica generale dei passaggi coinvolti. Materiali necessari. Cellule solari, puoi acquistarle online. Esistono diverse tipologie di celle solari, con diverse efficienze e dimensioni. Vetro temperato o plexiglass, per proteggere le celle solari. Rame o alluminio per il telaio, utilizzato per il supporto strutturale. Filatura elettrica, per collegare le celle solari tra loro. Resine epossidica o sigillante per impermeabilizzare il pannello. Protegge le celle solari dall'umidità. Passaggi di base. Assemblaggio delle celle solari. Disponi le celle solari sul vetro o plexiglass. Collega le celle in serie o in parallelo a seconda delle specifiche desiderate di tensione e corrente. Cablaggio. Collega le celle solari con la filatura elettrica, assicurandoti di saldare correttamente i collegamenti per garantire un flusso di corrente adeguato. Protezione del pannello. Copri le celle solari con un altro strato di vetro temperato o plexiglass per proteggerle dagli agenti atmosferici. Sigillatura. Usa resina epossidica o un sigillante impermeabile intorno ai bordi del vetro per assicurare che il pannello sia completamente sigillato e resistente all'umidità. Ricorda che costruire un pannello solare richiede una grande attenzione ai dettagli tecnici, e ciò comporta rischi elettrici e di sicurezza. Inoltre, i pannelli solari fatti in casa potrebbero non avere la stessa efficienza e durata dei pannelli solari professionali. Prima di procedere, consulta sempre un professionista qualificato e informati sulle normative locali, in quanto l'installazione di pannelli solari potrebbe richiedere autorizzazioni e conformità normative specifiche. Grazie a tutti.